Eventi, gastronomia e tartufo e tante possibilità in una cornice di luci, colori e sapori. Un weekend forse non basta per scoprire tutto quello che l'Umbria ha ad offrire, a partire dalla sua calda ospitalità che invita soltanto a non partire mai. Addio a località culto e dive del turismo. Finalmente si cerca il riparo dal turismo di massa nel silenzio, nella quiete e nella riservatezza che caratterizzano oggi il vero lusso. Nei rintorni di Perugia, una villa seicentisca è stata trasformata in una residenza d'epoca composta da 19 ampie camere, arredate con eleganza e comfort, dove si respira ancora l'atmosfera della dimora nobiliare. Palazzo Grande conserva il calore di una casa di campagna e l'originario splendore dei secoli passati, con tutti i comforts ai quali non si può rinunciare.